Qualcuno parlava di radici prima e c'è una signora che fa dei casini con le radici mai viste, che è Laura Margheri. Bioinspired Soft Robotics Laboratory dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Buonasera a tutti, buonasera e grazie dell'invito. Grazie per i casini. Beh, perché è vero che si pasticcia, perché sennò non verrebbe fuori niente, no? Per forza. E quindi tu ti occupi di biorobotica che ha, diciamo, un'ispirazione centrale, fondamentale, diciamo, nel mondo organico, vegetale e vegetale in particolare. L'ho detta male? No, no, è vero, vegetale in particolare. Buongiorno. Allora, io sono qui in rappresentanza del laboratorio di robotica bioispirata Soft, che è coordinato da Barbara Mazzolai, che è la madre della robotica ispirata alle piante. Ecco, quindi dobbiamo allele l'idea. E' stato un settore che è nato circa una decina di anni fa. Faccio prima una premessa sulla robotica bioispirata, che vuole essere un po' un ponte tra la natura e la tecnologia. Quindi abbiamo iniziato a lavorare per progettare robot che si potessero muovere in ambienti non noti, quindi al di fuori del contesto magari di una fabbrica. e per fare questo abbiamo deciso di guardare a animali e piante anche, per prendere ispirazione da quelle che sono le loro strategie di adattamento, di sensorizzazione, di movimento, per rispondere appunto e muoversi in ambienti non noti a priori. Ok, quindi cosa è successo? E poi è successo che è partito tutto quello che è chiamato lo zoo della robotica, quindi un sacco di animaloidi, e poi sono arrivati i plantoidi, quindi il plantoide è stato uno dei primi progetti appunto coordinato... Per questo prima parlavo di radici, perché secondo me il lavoro sulle radici, diciamo, chiamiamole artificiali, intelligenti o comunque robotiche, che il fatto è particolarmente sofisticato in termini di pensiero e anche di azione, avrebbe detto qualcuno. Le radici, sì, sono state il primo oggetto di studio per andare a realizzare delle radici artificiali che potessero essere utilizzate per il monitoraggio del terreno, perché le radici riesce a penetrare il terreno in maniera capillare, non invasiva, è sensorizzata, ha una sorta di intelligenza, c'è comunque anche una comunicazione tra i vari apici radicali, quindi tra le varie punti, quindi è una fonte di ispirazione a 360 gradi per le tecnologie. L'idea è stata quella di sfruttare la stessa capacità della radice di penetrare il terreno, quindi di come penetra la radice del terreno, di metterla anche nel robot attraverso una stampante 3D miniaturizzata, che quindi va a creare il corpo della radice artificiale. Che avviene nel mentre cresce? Nel mentre che cresce, quindi da lì poi è nato anche un nuovo concetto di movimento e la robotica, il movimento attraverso la crescita. Ci siamo spinti ora a studiare anche i rampicanti, sempre con lo stesso concetto, quindi robot che... Scusami se cerco di focalizzare meglio, stai parlando di radici artificiali che si muovono lentamente dentro il terreno, lentamente non lo so, si muovono dentro il terreno, evitano evidentemente degli ostacoli, quindi si muovono esattamente, se incontrano una roccia la circonnavigano, si producono da sole, diciamo, organicamente, attraverso una stampante 3D che è inserita nella fibra, nella fibra, e ricavano con questo, viene da dire, che cosa? Dati ambientali, per esempio. Ora, noi siamo a livello di studio di prototipo, quindi è testato magari su dei terreni artificiali. Ma l'idea è che possano essere utilizzate appunto per prendere dei parametri ambientali in ambienti dove altri robot o altre tecnologie non possono arrivare. Appunto, la fase successiva è stata anche quella di non muoversi più all'interno di un terreno, ma di andare a esplorare l'ambiente esterno, e quindi quello aereo, e quindi guardare a quel punto, non più alle radici, ma ai rampicanti, per creare dei robot che fossero in grado di costruire il proprio corpo sulla base dell'ambiente esterno. Ok, e dove possiamo arrivare con questa faccenda? Allora, intanto siamo in questa fase delle piante rampicanti, però le piante hanno anche altri punti di ispirazione. Io qui ho portato dei semi naturali e artificiali, perché stiamo studiando la struttura dei semi e le loro capacità di dispersione per realizzare dei robot che possano essere utilizzati per il monitoraggio ambientale, soprattutto nelle zone difficilmente raggiungibili da quelle che sono le tecnologie di monitoraggio ambientale tradizionale. Il vantaggio dell'utilizzare i semi è che sono a costo energetico zero. La pianta è vero che si muove... Come non si vede? Lo facciamo girare alla vecchia? Posso fare... Scusate, la confezione non è il massimo, è proprio di lavoratorio. C'è un nuovo robot. Allora, ci sono due semi, che sono quelli più scuri, che sono quelli naturali, sono di una specie di un geranio, che rispondono all'umidità, rispondono all'umidità srotolandosi e arrotolandosi. In questo modo il seme è tipo un cavatappi, che riesce a penetrare nelle fessure del terreno e poi una volta che è penetrato, da lì nasce la pianta. E noi abbiamo studiato la struttura e abbiamo scelto determinati materiali artificiali, in questo caso tutti biodegradabili, tra l'altro, che possono rispondere all'umidità allo stesso modo del seme naturale. Quindi anche il seme artificiale riesce a srotolarsi, a arrotolarsi, a seconda del variare dell'umidità. E in questo modo si muove nel terreno e riesce a penetrare. Ho capito, ma questo srotolarsi e arrotolarsi, anche in questo caso, che cosa produce? Produce la possibilità di misurare delle variazioni di umidità del terreno. Non solo, permette di avere dei sensori che vanno a misurare dei parametri in loco, quindi in un luogo preciso, perché integrando all'interno del seme artificiale dei sensori, per esempio di parametri come il mercurio, possiamo andare poi a misurare anche degli inquinanti del terreno. Questo è parte di un progetto europeo coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia con Barbara Mazzolai, con cui lavoriamo con dei partner europei, che si chiama ISEED, e che appunto ha l'idea di creare questo sciame di robot biodegradabili per il miglioraggio ambientale. Quindi il seme, ovviamente, come tutti i semi, muore. Sì, esatto. Praticamente verrà disperso, durerà magari qualche mese. Dei droni verranno utilizzati per fare poi delle mappature, delle aree dove ci saranno questi semi, con un sistema di lettura. sarà in grado di leggere quello che ha misurato il sensore, raccogliere i dati, e poi il seme va a degradarsi. Tra l'altro c'è il costo minimo per i materiali, quindi puntiamo sul numero elevato la stessa strategia delle piante. Quindi tanti semi, alcuni saranno totalmente inutili, altri però ci daranno delle informazioni, tanto poi verrà tutto degradato. Interessante che questa idea della morte, che comunque c'è sempre, diciamo, dentro i tools tecnologici, in un modo nell'altro sia invece parte del disegno, no? Allora sì, è una nuova visione anche della robotica che cerchiamo di portare avanti, è un po' il ciclo della vita, della tecnologia. Quindi il robot che viene progettato in modo da essere il più sostenibile possibile, già nella fase di progettazione, utilizzando materiali riciclabili o biodegradabili, farà la sua funzione e poi verrà o smantellato oppure degradato, ecco, in qualche modo. Ma quando vai a dormire, diciamo, che tipo di... Perché sei sempre di questi... Ma che tipo di visioni in qualche modo hai notturne? Radici, semi? Beh, quando ero... Io ho fatto il dottorato studiando il polpo. Io sono ingegnere. Ah, eccolo là. L'ho studiato il polpo per prendere ispirazione dal polpo. E ho sognato diverse volte di avere il polpo in stanza lì. Quindi non parliamo dei sogni. Laura Margheri, grazie. Quanto ci lasci insieme? Eh, ma devi ritirare. L'avete già mangiato? Cos'è? No, perché so che devi andare. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.